Gela è una città poco attenzionata dalla regione e dallo Stato, nonostante in alcuni campi usufruisca di leggi speciali, i benefici vanno ad altri territori senza requisiti. E' così per la sanità, per le infrastrutture e per i servizi. Grande centro siciliano tenuto appositamente al guinzaio, lo dice Filippo Franzone del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è l'esito dell'incontro a Caltanissetta tra il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, e di segretari provinciali di Cigelle Cisle Will. Si è proposto infatti di destinare alcune somme dell'ENI per tentare di finanziare il consorzio universitario Misseno. In sostanza, ENI a Gela inquina e Caltanissetta dovrebbe destinare i soldi. Ed il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese tuona. Ci chiedono di far fare dei master a Gela attraverso il consorzio universitario di Caltanissetta. Il protocollo di intese siglato con ENI prevedeva la collaborazione con l'università, con l'università vere. Noi non possiamo chiedere alla succursale di avere un'altra succursale a Gela. Sarebbe veramente ridicolo e qualitativamente non siamo nelle stesse condizioni di chiedere dei supporti all'Università di Catania, di Palermo, di Messina. Lo si può fare, ma lo si fa con vere università. Il protocollo di Gela serve per i gelesi e serve per far riprendere Gela. Bello o brutto, contestato o meno che sia stato, contiene quella clausola. Quella clausola è operata esclusivamente nell'interesse collettivo dei gelesi. Non si può finanziare il consorzio Nisseno perché gli manca adesso un socio che è il libero consorzio di Caltanissetta e quindi si chiede a un ente che ha gestito operata a Gela di poter finanziare questo consorzio. Per noi è giusto intraprendere una collaborazione con l'università di Catania per avere dei corsi e dei master su Gela, da svolgersi a Gela. Questa è l'operazione corretta, anche alla luce del fatto che noi abbiamo scelto di passare con la città metropolitana di Catania e quindi i gelesi vogliono aumentare le collaborazioni con i catanesi e ovviamente di unirle con il Nisseno. Non ha senso, dopo che una popolazione sia espressa per questa direzione, continuare a risuscitare il passato. È un fatto soltanto campanilistico o c'è dell'altro? No, il fattore è che un consorzio universitario non può erogare al meglio dei corsi come potrebbe fare una vera università, ma non solo. Noi chiediamo a Caltanissetta di erogare dei corsi su Gela. Ovviamente una parte dei soldi di questo protocollo rimane a Caltanissetta e un'altra parte andrà a Palermo perché Caltanissetta è agganciata all'università di Palermo. Perché dobbiamo spendere il doppio quando possiamo accedere direttamente all'università?